Il podcast è cinema mentale, no? Cioè, è il film che ognuno di noi si fa, la più grande è Democrazia, se vogliamo, no? Perché ognuno si fa il suo e non c'è nessun regista al mondo che può fare un film più bello di quello che ti fai tu nella tua testa, no? Perché è fatto di ricordi. Tutto quello che noi raccontiamo evoca ricordi, evoca il passato, evoca la vita, no? Io adesso posso dire, posso parlare di una nave e in ognuno di noi, o quello che dico sempre, se io parassi adesso della stanza di un bambino, tutti noi abbiamo avuto un frame di una stanza di un bambino in testa, mentre lo dicevo, e che stanza è? La stanza che avevi da piccolo, da piccola, la stanza dell'amico, la stanza di tuo figlio adesso, o che hai visto in un film. Per cui è proprio una cosa, per cui la gente non si rende neanche conto che sta in realtà quando ascolta una storia.